Agguato mortale a Napoli proprio mentre in piazza del plebiscito si svolgevano i funerali di Pino Daniele. Un giovane di 22 anni Ciro Esposito è stato colpito in un agguato in via sanità. Il giovane che aveva precedenti penali per spaccio di stupefacenti secondo quanto si apprende dalla questura sarebbe arrivato già morto all'ospedale Pellegrini di Napoli. Ciro Esposito sarebbe stato raggiunto dai sicari in via sanità tra il numero civico 100 e il 108 dove pare il giovane abitava. I killer hanno esploso complessivamente nove proiettili calibro 9 molti dei quali hanno raggiunto e ucciso il giovane. Sull'accaduto indaga la polizia. Quello di Ciro Esposito è il primo omicidio dell'anno nel capologo campano.